ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati oggi sostituzione filtro antipolline o filtro abitacolo per la nissan cascari questo tipo di filtro va cambiato una volta all'anno o massimo 15.000 chilometri a volte questo filtro viene considerato di poco punto ma in realtà è molto molto importante perché questo filtro qui in realtà protegge la nostra salute soprattutto per le macchine le persone che stanno in città e stanno più spesso nel traffico di questi filtri qua ce ne sono due tipi normali e questi a carboni attivi lo riconoscete dal fatto che è molto scuro mentre quello normale è chiaro praticamente biancastro come questo quindi vi consiglio di prendere sempre quello a carbone attivi ora vi dico perché quello a carbone attivi trattiene molte più particelle inquinanti e in più oltre a questo trattiene anche i cattivi odori quindi filtra molto molto di più ovviamente il prezzo di quello a carbone attivi è leggermente più alto ma parliamo di pochi euro e per la nostra salute consiglio assolutamente di prendere quello a carbone attivi in più per la nissan cascari questo tipo di filtro per il montaggio alcune volte è un po rognoso da fare proprio per questo motivo ho scelto un altro tipo di filtro dopo vi spiego il motivo la differenza con il filtro vecchio ok smontiamo e vediamo le differenze eccoci qui in auto ragazzi il filtro è situato proprio sotto il cassetto portoggetti qui nell'angoletto lato passeggero ok prima di tutto dobbiamo togliere questo carterino qui sotto è tutto in gastro senza viti basta tirarlo prenderlo in qualche angolo qui sopra e tirarlo verso il basso eccolo qui viene via molto facilmente e il filtro è situato proprio dietro questo pezzo in plastica che incastro basta prenderlo da qui e tirarlo ed ecco qui il filtro questo qui bianco internamente per come è fatto questo tipo di filtro anche per lo spuntaggio è un po particolare per toglierlo più facilmente e più velocemente poiché qua il posto non è dei migliori vi consiglio di staccare subito questa fascetta qui basta un girevite piccolino come questo ok e vi consiglio di togliere anche questo connettore qui tutto molto semplice da fare sarà poi molto più comodo e facile mettere il filtro nuovo e anche togliere il vecchio per togliere questa prendetela in questo modo e tirate verso il dietro dell'auto tirando verso il dietro con un dito sopra e uno sotto questa presetta andrà tutta fuori basterà solo tirarla eccola qui quindi molto molto semplice staccarla così mi siete creato un sacco di spazio vi consiglio di far uscire prima la parte superiore ecco qui prendetelo verso di qua e tirate verso il basso eccolo poi un po sotto purtroppo ragazzi mi dispiace per le riprese non sono delle migliori ed ecco quel filtro come stava tutto stropicciato nel suo alloggiamento purtroppo per come è impostato proprio il box dell'aria condizionata molto spesso questo filtro fa questa fine ora vi faccio vedere la differenza con il nuovo e le misure eccoci qua con i due filtri inizialmente sembrano gli stessi ma ci sono grosse differenze questo è quello che ho tolto ovviamente quello vecchio usato originale sempre nissan renault questo ad esempio quando era nuovo era tutto bianco quindi questo non è a carboni attivi lo scuro si è fatto praticamente con lo sporco come potete vedere già si intravede nella parte delle sue alette che è molto più trasparente vedete quasi si vede la luce sotto mentre questo è molto più spesso e non si vede nessuna trasparenza ora vediamo le misure sembrano simili ma in realtà c'è la differenza che vi voglio far vedere le misure sono 25 di lunghezza anche questo 25 di lunghezza larghezza 18 anche questo 18 e lo spessore 3,5 3,5 se vedete con attenzione queste alette su questo filtro qui sono dall'alto verso il basso quindi non come questo che sono in orizzontali questa differenza qui ci consentirà subito montaggio veloce e molto più corretto è sicuro che questo filtro non si stropicci in questo modo per il montaggio di questo bisogna stringerlo in questo modo e cercare di infilarlo là sotto nel migliore dei modi e molte volte questo filtro rimane storto rimane stropicciato e quindi di conseguenza si annulla tutta la sua filtrazione e di conseguenza nella macchina entrerà qualsiasi tipo di aria mentre con questo il montaggio sarà molto facile e non bisognerà stringerlo o stropicciarlo quindi andando molto precisamente nel suo alloggio farà molto meglio il suo lavoro e tutta la sua azione filtrante ultima cosa per il montaggio bisogna seguire sempre queste frecce qui anche quest'originale le aveva ecco la freccia questa freccia ci indica che l'aria che dovrà passare nel filtro deve entrare da qui e uscire dall'altro lato proprio nel senso delle frecce quindi nell'auto dobbiamo fare attenzione che questa parte qui si è rivolta verso in avanti dell'auto verso il muso dell'auto ok andiamolo a montare eccoci di nuovo in auto vi consiglio subito di mettere questo connettore qui qui sotto per crearvi più spazio ok come abbiamo detto controlliamo prima di tutto le frecce eccole qui quindi il filtro dovrà essere montato in questo modo quindi l'aria deve entrare da qui e uscire pulita da quest'altro lato andiamo sotto ok messo il filtro bello dritto ecco cominciamo a infilarlo dentro e poi nella parte in fondo proprio sotto alziamo leggermente e infiliamo ecco ce ne accorgiamo subito che comincia a entrare e poi lo spingiamo dentro ecco qui andrà solo e senza stropicciarsi solo qui nella parte superiore purtroppo non riesco a farvi vedere bene dovete schiacciare verso l'interno e abbassarlo leggermente scatterà da solo nel nell'alloggiamento perfettamente diritto ora possiamo mettere il coperchio questo come detto va incastro quindi va in questo modo qui con queste due curve verso destra seguiamo gli incastri eccolo facciamo attenzione a far scattare tutti gli incastri ok ora possiamo ripontare la presa di prima eccolo qui la ripassiamo da dietro appoggiamola sul suo alloggiamento ecco così schiacciamo e contemporaneamente buttiamo in avanti questa parte grigia quindi così ecco qui andrà praticamente da sola questo ragazzi sembra una sciocchezza ma se la togliamo il filtro andrà molto più velocemente e correttamente rimettiamo quest'altro incastro basta solo schiacciarlo ok ora possiamo rimettere il carterino sotto questi sono gli incastri ma facciamo attenzione a questo incastro qui che veramente è molto più debole in realtà sarebbe questo quindi questa linea qua in quella feritoia là sotto ecco qui vedete messa in direzione degli incastri basta solo schiacciare ricolleghiamo il led lavoro finito ok ragazzi grazie a tutti per l'attenzione e come sempre al prossimo video